INTRODUZIONE Il piano di salvezza prevedeva un modo per ritornare a vivere con il Padre Celeste. Dovevamo osservare i comandamenti, ma avremmo anche avuto bisogno di aiuto. Dovevamo liberarci dei nostri peccati e ricevere un corpo risorto. Dato che non possiamo liberarci da soli dei nostri peccati o risorgere il nostro corpo, avevamo bisogno che un Salvatore facesse queste cose per noi. Il Padre Celeste scelse Gesù Cristo come nostro Salvatore. Gesù amava il Padre Celeste e amava anche noi. Accettò di venire sulla terra e mostrarci come essere retti. Egli avrebbe provveduto perché fossimo tutti salvati. Accettò di soffrire per i nostri peccati e di morire e risorgere perché anche noi potessimo risorgere. Anche Satana voleva essere il nostro Salvatore. Ma Satana non amava il Padre Celeste e non amava noi. Satana voleva cambiare il piano del Padre Celeste per poter ottenere il potere e la gloria del Padre. Alcuni figli di Spirito del Padre Celeste scelsero di seguire Satana. Questo fatto rese il Padre Celeste molto triste. Egli scacciò Satana e i suoi seguaci dal cielo. Satana è il diavolo. Lui e gli spiriti che lo hanno seguito vogliono che pecchiamo. Il Padre Celeste chiese a Gesù di creare una terra per noi. Gesù lo fece. Egli creò il sole, la luna e le stelle. Mise sulla terra le piante e gli animali. Ora avevamo una terra dove venire e dove avremmo ricevuto un corpo di carne e sangue. Molte persone vennero a vivere sulla terra. Alcune scelsero di obbedire ai comandamenti di Dio. Altre no. I profeti antichi parlarono alle persone del piano del Padre Celeste e di Gesù Cristo. I profeti spiegavano che il Padre Celeste sarebbe stato il padre di Gesù. La madre sarebbe stata una donna molto buona di nome Maria. Egli sarebbe nato a Betlemme. I profeti dicevano che molte persone non avrebbero creduto che Gesù era il Salvatore. Sarebbe stato simile alle altre persone e non sarebbe stato ricco. Molti lo avrebbero odiato. I profeti parlarono anche di Giovanni Battista. Sarebbe arrivato prima di Gesù per parlare di lui alla gente. Giovanni avrebbe battezzato Gesù. I profeti dicevano che Gesù sarebbe stato buono e avrebbe compiuto molti miracoli. Prima di morire Gesù avrebbe sofferto per i peccati di tutti gli uomini. I quali non avrebbero sofferto se si fossero pentiti. Molti profeti sapevano che Gesù Cristo, il nostro Salvatore, sarebbe stato crocifisso. Sarebbe stato appeso con i chiodi a una croce di legno e avrebbe dato la sua vita per noi. Dopo tre giorni sarebbe risorto. Il suo spirito sarebbe ritornato nel corpo. Grazie alla morte e risurrezione di Gesù, anche noi saremmo risorti. Il Nuovo Testamento dimostra che le parole dei profeti sono vere. È la storia di Gesù Cristo e dei Suoi Apostoli. Essi vivevano in Terra Santa. Molti abitanti della Terra Santa erano chiamati ebrei. I romani avevano conquistato la Terra Santa e governavano gli ebrei.